Una visita che è servita per fare il punto della situazione per iniziare il lavoro che prenderà via ufficialmente con la dichiarazione dello stato d'emergenza. È stato questo l'essenzo del sopralluogo effettuato dal commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma Guido Castelli nel pomeriggio di sabato 1 aprile nei luoghi colpiti dal terremoto dello scorso 9 marzo. L'arrivo di Castelli ha anticipato di qualche giorno quello del ministro per la protezione civile Nello Musumeci fissato per giovedì 6 aprile. Il commissario ha in un primo momento visitato il centro di Pierantonio uno dei luoghi maggiormente colpiti dal sisma successivamente si è recato presso la palestra della scuola elementare della frazione del comune di Umbertide in cui sono ancora ospitate 41 persone. Nell'edificio ha avuto modo di parlare con alcuni sfollati che hanno chiesto di trovare celermente una soluzione alla delicata situazione che stanno vivendo. La visita è proseguita nella frazione perugina di Sant'Orfeto per poi terminare alla sede del gruppo comunale di protezione civile di Umbertide. Abbiamo fatto un briefing tecnico sulle cose che dovremo affrontare un minuto dopo l'annuncio del provvedimento dello stato d'emergenza. Ha detto Castelli, la protezione civile ha fatto veramente un ottimo lavoro, ha proseguito il commissario. C'è ancora un COC attivo di fatto 24 ore su 24 e la fase d'emergenza è stata gestita al meglio. Per quanto riguarda i numeri sono attualmente 723 le persone sfollate, 438 residenti nel comune di Umbertide e 285 nel comune di Perugia. Sono circa 200 in tutto il cratere gli edifici che sono stati dichiarati inagibili.